Ciao e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di burger e faremo un burger verdissimo. Infatti l'ho chiamato Grinch Burger, proprio per il colore verde che avrà questo burger. Allora, non voglio farti perdere tempo con tante chiacchiere e cose inutili perché mi piace andare al sodo ed essere efficace. Quindi partiamo subito con la fase operativa, la parte cicciosa, la parte pratica e vediamo quali ingredienti ci servono. Perfetto, cominciamo con gli ingredienti. Per quanto riguarda il protagonista useremo dei piselli verdi finissimi, di quelli surgelati, infatti sono verdissimi e sono belli colorati. Quindi questo è il vero segreto, cominciare con un prodotto di base, una materia prima che sia già bella verde, non quelle in scatole che sono verde spento. Quindi 450 grammi di piselli finissimi. Per quanto riguarda la parte delle verdure poi, 150 grammi di pori che abbiamo saltato in padella a pezzettini piccoli e 150 grammi di zucchine, anche queste fatte a cubetti e saltate in padella veramente un paio di minuti, molto molto poco. A questo punto poi, per non perdere altro tempo, passiamo subito alla fase operativa. Prendiamo quindi una bowl molto capiente. Infatti quando io faccio i burger uso sempre questa, perché uso la tecnica all-in, quindi butto tutti insieme e poi creo l'impasto. Mettiamo quindi i nostri piselli finissimi, che ovviamente sono freddi, come tutti gli altri ingredienti. Poi aggiungiamo i nostri pori. Mettiamo le zucchine. E già con questi tre ingredienti abbiamo la massa, quindi quello che farà quantità e colore per quanto riguarda il nostro burger. Adesso cominciamo con la parte dei sapori. Cominciamo con un cucchino di sale. Lo mettiamo raso e poi assaggiamo e vediamo se va bene. Aggiungiamo poi un paio di pizzichi di pepe nero in polvere. Poi aggiungiamo due o tre cucchiai di foglie di prezzemolo. Ovviamente le abbiamo già pulite senza il gambetto. Mettiamo un paio di cucchiai di succo di limone e un cucchiaio raso di salsa di soia o tamari. A piacere poi possiamo aggiungere anche un paio di cucchiaini di lievito alimentare in scaglie. Io personalmente mi trovo bene con quello di baule volante. Ovviamente ragazzi non prendo neanche un euro, però questo è un prodotto fantastico che uso da anni. Poi aggiungiamo un paio di cucchiai di olio d'oliva. Poi prendiamo un frullatore di immersione e andiamo a frullare circa l'80% degli ingredienti avendo cura principalmente di frullare e tritare il prezzemolo. E questo è quello che interno con l'80%, quindi abbiamo frullato tutti i pezzi grossi ma comunque il nostro impasto rimane ancora un po' grossolano. Questi pezzettini saranno molto belli in bocca per non avere un impasto troppo lescio senza consistenza, senza nessun tipo di contrasto, ecco. A questo punto assaggiamo e verifichiamo che vada bene di sale, di acidità e di sapore. Per un gusto personale aggiungo ancora un cucchiaino e mezzo di lievito alimentare. Diamo un'ultima mescolata e a questo punto poi siamo pronti per cominciare a legare il nostro impasto burger. Cominciamo con 50 grammi di pane grattugiato e poi aggiungiamo 50 grammi di farina di ceci. A questo punto molto semplicemente poi mescoliamo l'impasto con i nostri leganti e una volta mischiati poi lasciamo riposare il nostro impasto per almeno mezz'ora. Questo per dare il tempo ai nostri leganti di fare il loro effetto, così poi capiremo quanto ne manca. Una volta trascorso il tempo di riposo controlliamo il nostro impasto. Tocchiamo con le dita e vediamo che è ancora abbastanza bagnato. Per questo motivo dobbiamo aggiungere altro pane quindi ne aggiungiamo altri 25 grammi tanto per cominciare e aggiungiamo ancora un 15-20 grammi di farina di ceci. Infatti vogliamo un impasto che sia bello compatto che potremo poi cuocere tranquillamente in padella. Diamo un'altra mescolata Ovviamente la quantità di farina di ceci e di pane che aggiungiamo dipende da quanto erano bagnati i nostri ingredienti principali quindi le verdure e i piselli. Quindi non preoccupatevi se dovete aggiungere pian piano che questo è parte del cucinare la cosa importante è sempre farlo poco alla volta. Quindi per avere un sapore più autentico possibile dobbiamo aggiungere meno pane e meno farina di ceci e questa cosa la possiamo fare soltanto in un modo ovvero essere sicuri che i nostri ingredienti di base contengano pochissima acqua e pochissima umidità. Quindi se necessario continuiamo ad aggiungere pane o altri elementi eleganti o delle fibre alimentari la cosa importante è avere questo effetto finale un impasto bello compatto, bello solido che avrà una bella massa quindi lo sentiremo proprio con le mani e con lo strumento che è un impasto che ha una sua importanza. Ecco, a questo punto poi un passaggio importante prendiamo il nostro impasto e lo mettiamo in frigorifero a rassodare per circa una mezz'oretta. Dopodiché saremo finalmente pronti per cuocere il nostro burger Grinch di piselli. Ottimo, trascorso il tempo di riposo in frigorifero passiamo finalmente alla cottura che può essere fatta in due modi la prima è in forno quindi semplicemente faremo le forme burger le ungiamo leggermente con l'olio e le mettiamo in forno oppure la seconda, quella che io preferisco direttamente in padella quindi a questo punto passiamo alla seconda fase e vediamo come si fa. Per cui per quanto riguarda la fase di cottura in padella scaldiamo una padella antiaderente mentre la padella si scalda prendiamo il nostro impasto ne prendiamo circa 100 grammi con le mani schiacciamo delicatamente il nostro impasto per dare la classica forma burger l'altezza deve essere circa di un centimetro massimo massimo un centimetro e mezzo infatti non deve essere troppo spesso sistemiamo i bordi per bene per avere una forma bella circolare e a questo punto poi aspettiamo che la nostra padella sia bella calda ovviamente sul mercato esistono anche degli strumenti per dare le classiche forme burger ma con le mani è sempre più bello perché possiamo toccare la materia prima perfetto la padella è bella calda a questo punto ci mettiamo un goccio di olio e mettiamo subito il nostro burger una cosa fondamentale a questo punto è non toccare il burger finché avrà formato una bellissima crosticina sull'altro lato per questo tipo di passaggio ci vorranno circa un paio di minuti a fuoco medio la cosa importante è non girare il burger non toccarlo infatti se lo tocchiamo all'inizio potrebbe rompersi e potrebbe un po' appiccicarsi qua e là la cosa importante quindi è lasciarlo fermo nello stesso punto finché formerà una bella crosticina la cosa importante quindi è sempre tenere monitorato quindi controlliamo e quando vediamo che si stacca lo possiamo cominciare a girare ancora una volta cospargiamo delicatamente con dell'olio e giriamo con delicatezza ma con un colpo unico il nostro burger quindi questo deve essere l'effetto il nostro burger deve essere bello dorato bello caramellato e aver formato questa bellissima crosticina a questo punto poi lasciamo cuocere anche su questo lato per circa 1-2 minuti teniamo sempre controllato il burger vediamo che si stacca anche sull'altro lato quindi lo giriamo perfetto ottimo risultato a questo punto abbasso la fiamma a circa il minimo e lascio cuocere un altro paio di minuti questo per permettere anche al cuore del burger di cuocersi per bene quindi la farina di ceci anche il pane e i vari legumi ovviamente tengo girato più spesso per evitare che si bruci ma la cosa importante è lasciarlo cuocere il tempo totale di cottura è di circa 5-7 minuti quindi è un burger che cuoce anche molto velocemente perfetto a questo punto il nostro burger è pronto lo possiamo tranquillamente togliere dalla padella e servire per quanto riguarda l'impiattamento sarà molto semplice useremo un piccolo tagliere di legno ci mettiamo il nostro burger verde Grinch poi ho preparato una piccola insalatina con pomodoro zucchine e porri zucchine e porri mi sono avanzati dalla preparazione quindi semplicemente ho aggiunto il pomodoro per dare un po' di colore e un po' di freschezza quindi ne prendo una cucchiaiata e la metto un po' sul burger e un po' sul tagliere infatti sarà una cosa molto veloce e molto estiva a questo punto poi aggiungiamo fiori comestibili per dare un po' di colore e un po' di luce al nostro burger mettiamo anche dei piccoli ciuffetti di menta per dare ancora un po' di freschezza e un po' di sapore li mettiamo nei punti strategici che siano belli evidenti e per non farci mancare proprio niente aggiungiamo anche dei petali rosa che daranno ancora più colore al nostro piatto e alla fine questo è il risultato il nostro burger Grinch di piselli con porri e zucchine che abbiamo poi condito con una fresca insalata estiva di zucchine, pomodoro e porro facciamo la prova del cucchiaio quindi vediamo che ha una bellissima consistenza il centro del burger è bello verde bello compatto lo possiamo tranquillamente mangiare così o anche servire i nostri burger quindi divertitevi con il vostro burger Grinch e ci vediamo nel prossimo video perfetto siamo arrivati in fondo a questo video sul Grinch Burger abbiamo visto veramente tante cose se ti è piaciuto metti like di supporto e iscriviti al canale e ci vediamo nel prossimo video ciao da Mattia grazie a tutti